Continua a vincere il Città di Isernia, non concede alcun tipo di sconto alla penultima della classe Campomarino. La macchina da gol di Farrocco non si inceppa e genera il ventiduesimo successo in campionato. Prosegue la protesta del tifo organizzato Bianco Celeste, assente al Dianni e manifesta comunque la vicinanza alla squadra con uno striscione finalizzato a suonare la carica in vista del finale di stagione. Arbitra il signor Zampini della sezione di Campobasso, 8.40, Cascio dalla Mancina, in mezzo per Lopez che la svirgola il minuto seguente, lo stesso numero 7 che va ad angolare troppo il suo rasoterra nei pressi della porta avversaria. Siamo al dodicesimo, è la volta di Ercolano che dal lato cortosinistro dell'area di rigore va a sfiorare la traversa. Al quarto d'ora Serpa spietata in ripartenza, campo largo, Cascio in mediana, guadagna metri prima di battere a rete per l'1-0 con il solito piatto sinistro, una vera e propria sentenza. Al diciottesimo insiste Lopez, questa volta sull'invito di Samba e di testa. La gira a lato, minuto 25 il bis, ancora del facu nella circostanza, il cambio di piede, 2-0 servito. Ospiti storditi dalla prima parte di gara dell'Isernia si propongono intorno al ventottesimo con Falco dalla distanza. Nessun problema per Galletti che arpiona il pallone. Trentaduesimo il tentativo aereo è di Damian Soria che la schiaccia però lontano dalla porta. Al trentaquattresimo interessante lo spunto di Mattia Cacchione che impegna seriamente i guantoni di Galletti tra i pali al posto dello squalificato Cocchiarella mentre al trentanovesimo la punizione dal limite di Falco sporcata dalla barriera per quello che è l'ultimo atto del primo tempo che la capolista chiude in doppio vantaggio. Al quarto dopo l'intervallo l'arcobaleno di Delbianco per Lopez che taglia sul secondo palo e sotto misura batte Sandu per il 3-0. Al nono si rivede Lopez, Sandu riesce ad allungarsi e a respingere mentre al dodicesimo è la volta di Damian Soria che a portiere battuto va a colpire il palo. Ventunesimo invece il pasticcio difensivo degli Adriatici ne approfitta Lopez che delega l'incarico a Flores per il poker. E due minuti più tardi partecipa alla festa anche Vincenzo Valentino, il terzino pugliese in trazione anteriore. Indovina il raso terra per il definitivo 5-0 in favore della città di Sernia alla vigilia della big match dell'afferrante di Piedimonte Matese contro l'Aurora Alto Casertano. Per il campo marino invece sfida molto delicata per la salvezza con il derby interno contro il Termoli 2016.